I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Leggeri e Perrino hanno presentato una interrogazione sulla delibera di autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'inceneritore Fenice. Con il provvedimento, sottolineo i consiglieri, la Giunta Pittella ha concesso all'impianto di San Nicola di continuare, ancora per un anno, ad emettere una quantità superiore dell'80% rispetto ai limiti previsti dal Codice dell'Ambiente dei pericolosi inquinanti quali gli ossidi di azoto. Nel ricordare che gli ossidi di azoto sono gas pericolosi per la salute e l'ambiente, Perrino e Leggeri fanno riferimento al limite massimo di 100 mg fissato dal Codice dell'Ambiente e a quello che invece Fenice potrà continuare ad emettere fino a dicembre 2016, 180 mg, come previsto dall'AIA del 2008, peraltro scaduta a dicembre 2014. I due consiglieri chiedono di sapere se prima del rilascio della deroga e i limiti emissivi l'ARPAB abbia verificato il rispetto delle condizioni rilasciate dall'AIA nel 2008. Una volta tanto, Pittella e maggioranza, concludono i due consiglieri, si sforzino di essere coerenti, dando davvero attuazione a quanto previsto dalla legge regionale rifiuti zero, in attesa del nuovo piano regionale dei rifiuti. Grazie a tutti.